il giro che palle cosa cazzo è successo? clip it! clippatela! l'ho mai ho fatto il superman gli soffino dietro la schiena al volo al volo al volo come dei migliori film oh pog! non sono riuscito a prendere la kill? hangar sud mi sentire un ping più o meno? è sopra esattamente sopra l'hangar sugo sughetto non scoppi in te la domanda è ora cosa mettiamo? ma dentro l'attacca non c'entra il paratus ve? si si c'entra oh mio dio oh mio dio come cazzo faccio? non so più cosa portarmi dietro allora allora veniamo un pochino allora fino a 90 li puoi togliere il silenzio da te power giorgio 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 power power è il momento del Quickscape? traccato OOOOOOOO PG let's go col Quickscape finale pure che l'ho del cheater voglio la clip del cheater poi ve lo voglio vedere ma l'uomo perché è rimasto in terra? perché no? era così bello giocare senza mamma mia che porcheria ma quando meno te lo aspetti gli sto dando tutto chi è che l'ha ammazzato? no rega però prende la fune ce ne avevo le scale ma dove cazzo siete? eh scendi con turi tu che stiamo a posto hao power ma vaffanculo porca madonna testa di cazzo ma? ok ma è impazzito? ci sono evidentemente delle cose in sospeso su questo discord anzi neanche TS avevo trovato una cazzo di flash drive eh no non ha posto di vedere a trasportarsi mi sa e avviciniamoci ragazzi piglin e piglin lo so raga ma non c'abbiamo abbastanza oro cioè quanto ne abbiamo di oro eh io ne ho perso un sacco eh ci sono cinque lingotti io ho perso 64 lingotti prima con la grande morte la grande morte star wars nooo no fra no no fra no l'ho visto fra cioè proprio ho assistito hai swimmato nella lava big bro mi ha lanciato di sotto mi ha lanciato di sotto l'enderman che cazzo scusate io non ve l'ho distrubbata vado a venire mi hanno cerchiato da dam error error sta andando sotto lancio la macchina lancio la macchina raga uno a sinistra invece da raze premia uno sinistra vado 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 caricato ogni volta che premo back next leggo il nome alienato 90 a testa io cristo madonna no alienato ti consiglio di annatta a fare una scappata perchè puttana eva entro con lancio a fiamme e ti compone la precia con sportività pensa quando l'hai dappato te ad alienato